a vede amici lontani per fortuna ci sono dei cellulari e social network rimanere in contatto raccontare la propria giornata chiedere un parere è tutto possibile con i messaggi le chat e le e-mail ma è davvero la stessa cosa perché qualche volta non proviamo il vecchio metodo no, non parliamo delle lettere o dei pacchi postali ma di una semplice telefonata quando è importante telefonare? beh, prima di tutto quando è passato molto tempo dall'ultima volta non possiamo scrivere un semplice ciao come va a una persona che non sentiamo da mesi poi dobbiamo telefonare quando l'amico non sta bene in questi momenti una telefonata può cambiare tutto e se non potete usare la vecchia tecnologia beh, potete fare una videochiamata